In camera è la prima cosa che vedi è questa piccolina, questa piccolina, cazzo di persone. Dopo anni io ho rimesso a piedi, cioè ho rimesso a piedi, ho rifatto un video, perché, perché, perché sono stinti, praticamente raga, oggi ho ripensato al fatto che quando facevo video su YouTube, facevo video, parlavo, dicevo cazzate, un po' come tutti, fate la zesta telecamera. Dopo cinque minuti sono riuscito ad alzare la telecamera, volevo sforlare e dire qualcosa di inutile, vabbè, a parte questo. Ho fatto un altro video dopo anni, perché oggi stavo ripensando al fatto di quando li facevo, io sono istintivo, quindi quando vuoi di fare qualcosa la fa. E' nulla, che è successo in questi anni? Mi sono riaperto i latatori, dopo me l'ero chiusi, forse alcuni gol non lo sapevano perché hanno smesso di seguirmi, tranquilli, non ce l'ho con voi. Siete delle merde. Mi sono fatto il setto, vi sto parlando piano perché sono le 4 di notte e quindi non posso fare tanto asena. Ho trovato lavoro, poi l'ho perso, cioè l'ho perso, mi hanno rinnovato il contratto e ho imparato a fare qualche tatuaggio in tutto questo, ho disegnato, non mi ho smesso di disegnare, perché mi segue su Instagram lo sa, sono subito il setto degli stronzi. Ho chiuso con persone con cui avevo un rapporto da anni, ho aperto nuovi rapporti, poi ho chiuso anche quelli. Mi sono fidanzato, tipo qualche volta, ora non sto, non mi ricordo neanche quando sono messo di rifare i video, non mi ricordo con chi stavo, con chi non stavo. Mi sono fidanzato qualche volta, mi sono lasciato e mi hanno tradito, tra l'altro. Cioè io non ho ambizioni, ho rifatto sta cosa del video perché ce l'ho voglia di farla semplicemente, perché non mi sono così, l'ho detto. E quindi ho detto vabbè, sai che, 4 di notte, non mi viene in mente un cazzo, cioè sinceramente non mi viene in mente niente perché non so quello che ho evitato, cioè non so a che punto era arrivato. Ho fatto qualche collaborazione per via di Instagram, ho conosciuto gente, qualcuno di famosi ha messo like, mi ha notato. Rosalmo mi ha messo like al ritratto, TaylorMega e la dell'Hellis, vabbè e altre gente eccetera eccetera. Giù mi sono neanche io a dirvi, cioè io sono qui davanti alla telecamera. Ho deciso che quando, da un po' quando vorrò, quando mi succederà qualcosa, cioè proprio senza impegno, quando vorrò raccontarvi qualcosa che mi è successo durante la giornata, durante la settimana eccetera eccetera, io ci farò un video, se mi andrà, perché si ritorna sempre lì. Cioè io fa le cose quando, quando e se io vorrei di farlo, se no vorrei farlo e boh quando, quindi ogni tanto può darsi che, può darsi che non è sicuro. Io uscirò qualche video dove vi racconto guarda oggi ho perso il lavoro, guarda oggi ho ammazzato qualcuno. Cioè la cosa che mi preme dirvi per cui poi mi guarderanno è che sta cosa sarà senza impegno. Cioè non, non sono uno di quelli che, no io il martedì fu c'era un video, no mi fai un cazzo raga sinceramente. Boh quindi raga volevo sapere un po' cosa ne pensavo per questo mio, fra molte virgolette, ritorno. Ve lo faccio senza impegno raga quindi non sono neanche io a cosa parlare, cioè io ero lì, con gli amici e ho detto che ero a casa, partendo tardi, ero a casa e mi metto lì alle 4 di notte e registro qualcosa, ma proprio qualcosa, non so neanche io cosa. Quindi se mi vedete un po', come si dice, un po' imparciato, un po' senza parole, un po' di qua, un po' di là per qui, un po' se mi sentite con la voce molto bassa, lo cercate perché il mio amico sta dormendo. Mi sono successo talmente tante cose in questi anni che non me ne viene in mente nessuno sinceramente, magari se volete chiedetemi un po' neomenti, ma non ci sarà neanche gente che commenta, quindi va bene così. E nulla, boh, buona.